I nostri angi sono i zalperi. La barca è dietro di noi. Lui deve stare dentro le briccole. Lui deve stare dentro il leggi. La barca è stata lì. E' una barca è stata lì. E' una roba di 130 anni. E' in proprietà dei partiti del vettore. Dello temporale è stata lì. E' bella casetta questa lì, guarda. E' bella casetta rossa. E' come quella che è inazienda appoggiata. E' quella che è arrivato del ministro del Veneto. Il Valero e Manera. Il cielo è il regontore. e si vede un'acquattura che il giardino ha dovuto scelere sulla parte del giardino che si vede a casa allora vabbè allora vabbè come è grande ma che voglia perché è una del centro lì è una del centro lì è una del centro lì si vede qui si vede qui vede quitte timponi e si andrilla e la mano non lo proposto che è da mano vedi 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 Il giardino Veden, nell'operazione di un'artista, 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 però il giardino non ha fatto nessuno, non ha fatto nessuno. Il giardino Veden, nell'operazione di un'artista, 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 un'artista. Il giardino Veden, nell'operazione di un'artista, 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 un'artista. Qua è questa qui? Oh, che ha la testa? Ecco, questo è tutto il toro. Il toro no? No, no, no. Guarda che barchetta, guarda che barchetta. Guarda che barchetta c'è questo signore. Questa è leggera, questa viaggia eh. Ciao, ciao. Ciao. Questo è stato il timoniere su una regata, una regata di barche all'inglese d'Alto Mare. Ah. E hanno vinto loro. Ah, però. Due timoniere. E hanno chiamato anche i pepazzi inglesi. Eh, come vieni? Tutto a quanto degli altri anni. Non ci sento? No. Eh, anche per l'inglese d'Alto Mare. E' anche per l'inglese. E' anche per l'inglese d'Alto Mare. E' ancora per il tempo. E' ancora per l'inglese d'Abor. Da, anche per l'inglese d'Alto Mare. Cosa per il nostro imperatore e il nostro periello sono lì? E' ancora per l'inglese d'Alto Mare. E' ancora per lì, 14 anni. Può che sceglie aziosi prodai. E' ancora per l'inglese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie, grazie. Vediamo, appena appena qua sulla destra, un po' di scopi, un po' di attività. Ottimo, questo giro va benissimo. Allora, forsemente, bene, bene. Piano piano. Aoi! Eh! Domando! E basta l'altro, è il domando. Prendi, prendi un po', manda la parte, prendi un po', è questo sì. E poi sta dando un po'. Hoi! Eh! E poi, prendi, 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 prendi! Hoi! Hoi! Prendi, 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 sopra la parte. Sì! Hoi! Domando! Sì! Vem la parte, sai un po', 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 sai un po' Sì! Che tieni, lasi una, che tieni lasi una! Sì! E dai che dieci! Allora! Perché avevo como suspeito? Grazie a tutti. 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 . a tutti. Grazie a tutti. . 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